Io sono un uomo ridicolo, ora mi chiamano pazzo, io stesso riderei con loro, non già di me ma per amore avverso di loro, se nel guardarli non mi sentessi così triste. E allora io ho smesi a quel punto di colpo di arrabbiarmi con gli uomini e quasi cessai di notarli e questo si manifestava nelle più minute bazzecole, non lo so, mi capitava di camminare per la strada, per la via, io urtavo qualcuno, urtavo la gente, ma non perché io andassi fantasticando, a che cosa mai avrei dovuto pensare? Avevo smesso del tutto di pensare, tutto mi era indifferente, a che cosa mai avrei dovuto pensare? Non avevo più nulla a cui pensare, magari avessi risolto dei problemi, non avevo risolto nessun problema, quanti mai ce n'erano di problemi, ma tutto mi era diventato indifferente. Il sogno di un uomo ridicolo è un testo filosofico talmente alto, talmente grande, talmente bello, la storia che viene raccontata, che trascende qualunque pensiero di carattere filosofico e religioso. Adesso mi sono tutti cari, persino quando ridono di me, anzi allora mi sono, non so come, particolarmente cari. Io stesso riderei con loro. I greci non hanno la parola amicizia, usano la parola filia, la stessa filia, come amore. L'amicizia è un amore, ma l'amore è una cosa che trascende il corpo, che vuol dire coappartenenza nello stesso. Ora io ne sono convinto, mi appariva chiaro che la vita e il mondo era come se dipendessero da me. Oh sì sì, io mi sarei sparato e il mondo avrebbe cessato totalmente di esistere e forse dopo di me non ci sarebbe stato più niente per nessuno. E appena si fosse spenta la mia coscienza, il mondo si sarebbe dileguato come un fantasma, perché forse tutto questo mondo, tutta questa vita, tutti questi uomini, 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 altro non sono che io. Poi cominciarono a dire che forse era meglio per tutti, che io fossi rinchiuso in un manicomio. C'è una sola possibilità per il mondo, non ce n'è un'altra, è l'amore verso il prossimo. E questo è quello che dice Dostoievski in questo capolavoro, in questa vertigine, nel senso che l'ultima frase che dice questo uomo ridicolo è che c'è una sola soluzione a tutti i mali del mondo di cui lui in questo sogno è stata causa ed è ama gli altri come te stesso. Grazie. 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 Grazie.